Benvenuti al Forum Salute di Irpinia TV. Che relazione c'è tra i problemi cardiaci e i problemi respiratori? Oggi proveremo a capirlo insieme al dottore Cristian Russo, pneumologo del reparto di cardiopneumologia della Clinica Montevergine. Dottore, la ringrazio per aver accettato il mio invito. Ognuno, grazie a lei. Allora, che relazione c'è tra i problemi di cuore e i problemi respiratori? Beh, la relazione è strettissima in quanto i due organi sono anatomicamente molto connessi fra di loro e soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche, l'una influenza moltissimo lo sviluppo di patologie dell'altra branca. Ecco, è più frequente che problemi cardiaci portano a problemi respiratori o che problemi respiratori poi portano a problemi cardiaci? È frequente che entrambi i problemi abbiano sintomi in comune, ma è molto più frequente che problemi respiratori sfociano in problemi cardiologici in quanto il cuore è il primo organo a soffrire di patologie croniche dell'apparato respiratorio. Quindi perché? Che cosa succede al nostro cuore? Succede che le patologie respiratorie provocano una riduzione marcata dell'ossigeno nel sangue, ovviamente, e il cuore è costretto a sopperire a questa mancanza di ossigeno pompando il sangue in maniera più vigorosa o più frequente e quindi si rischia lo sviluppo di patologie croniche respiratorie come per esempio l'ipertensione, come la patologia cardiovascolare di tipo ischemico oppure anche molte aritmie sono dovute a problemi respiratori cronici. Allora, quali sono invece i problemi che nascono proprio da questa relazione? I problemi ovviamente sono problemi soprattutto dal punto di vista diagnostico. mi faccio per esempio l'esempio dell'affanno della dispnea che è uno dei sintomi più frequentemente riscontrati nei pazienti sia cardiovascolari che respiratori e la diagnosi differenziale, cioè la differenziazione fra l'origine di tipo respiratorio o di tipo cardiovascolare della dispnea è uno dei problemi di fronte ai quali i medici si trovano più spesso a combattere. Per cui il consiglio è sempre quello di indagare entrambi gli apparati separatamente o insieme per avere una diagnosi quanto più completa possibile. Soprattutto considerando che sia i sintomi sia le cause della patologia cardiovascolare respiratoria spesso e volentieri si sovrappongono. Un esempio su tutti l'abitudine tabagica, il fumo, può causare molto frequentemente patologie respiratorie ma altrettanto frequentemente patologie cardiovascolari. Soffermiamoci un attimino sulla dispnea, sull'affanno. Quando è che si manifesta in genere? Allora, la dispnea è in genere soprattutto nei pazienti respiratori dovuta a una carenza di ossigeno a livello dei tessuti cioè del nostro organismo a livello periferico quindi per esempio muscoli o organi. Nel caso dell'apparato respiratorio è una dispnea di tipo centrale cioè dovuta ad un'incapacità del polmone di ossigenare il sangue. Nel caso invece della patologia cardiovascolare può essere sia di tipo centrale sia di tipo periferico cioè il cuore non è in grado di fornire ai tessuti la giusta quantità di sangue ossigenato e ragion per cui poi si manifesta la dispnea. Come dicevo prima, è fondamentale in questi pazienti indagare entrambi gli apparati respiratori e cardiovascolari. Ci sono diversi tipi di dispnea? Sì, dicevo appunto la dispnea di tipo centrale e la dispnea di tipo periferico. La dispnea di tipo periferico può avere anche altre cause per esempio l'anemia è una di queste cause per esempio patologie della ghiandola tiroide ma la dispnea di maggior interesse cardiovascolare e respiratorio è la dispnea appunto di tipo centrale. Come si diagnostica la dispnea? La dispnea è in genere il campanello d'allarme per iniziare a diagnosticare. Non è un sintomo. Esatto, è un sintomo quindi ci viene riferito dal paziente ed in genere è il punto di partenza proprio per le indagini che vanno a scovare quale patologia sia alla base appunto dell'affanno della dispnea stessa. Che cos'è invece la BPCO? La BPCO è certamente una delle maggiori cause di dispnea nei pazienti soprattutto sopra i 50 anni e fumatori è una patologia cronica respiratoria che può coinvolgere sia i bronchi di piccolo calibro quindi bronchi un po' più lontani dalla trachea sia proprio il polmone vero e proprio e le manifestazioni principali sono la bronchite cronica e l'enfisema polmonare che sono diciamo fra le cause principali nei fumatori di affanno di dispnea. Noi abbiamo oggi in Italia e diciamo nel mondo occidentale un'elevatissima incidenza di questo tipo di patologia che negli anni diciamo del secolo scorso ha soppiantato le patologie infettive come patologie respiratorie più frequenti. Per diciamo la diagnosi di questa patologia è fondamentale un esame di estrema semplice diciamo effettuazione che è la spirometria che è un esame che valuta la quantità di aria che un paziente è capace di inspirare ed espirare in un atto unico respiratorio e soprattutto, ancora più importante per questo tipo di patologia il flusso di quest'aria cioè la resistenza che quest'aria incontra nel passaggio fra i bronchi in quanto questa patologia è una patologia di tipo ostruttivo cioè i bronchi sono più piccoli diciamo più stretti non più piccoli, più stretti rispetto al normale l'aria passa a fatica questo poi porta a una dispnea quindi un affanno che in genere, soprattutto nelle prime fasi non è a riposo ma è durante sforzo quindi il paziente è in grado per esempio di salire sempre meno scale di camminare sempre per meno metri fino a, diciamo, non poter effettuare quelle che sono le normali attività quotidiane di un paziente come lavarsi il viso allacciarsi le scarpe sono tra le prime cose che il paziente ha difficoltà a fare nelle fasi più avanzate Senta, si fa anche la prova da sforzo in questi casi? Allora, la prova da sforzo cardiorespiratoria può avere, ha un'importanza in questi tipi di pazienti soprattutto laddove la spirometria non ci dà delle indicazioni particolarmente dettagliate oppure nella differenziazione soprattutto fra bronchitici quindi pazienti con BPCO soprattutto bronchitici e pazienti BPCO soprattutto enfisematici in quanto le terapie in questi due casi possono differenziare in qualcosa Ecco, come si cura la BPCO? Voglio sapere prima una cosa, scusi il sintomo è solo la dispenea oppure c'è anche tosse? Esatto, il sintomo principale è la dispenea soprattutto nell'enfisematico nel bronchitico cronico invece alla dispenea si affianca molto più spesso tosse e produzione di espettorato E quindi come si curano? Allora, noi abbiamo una fortuna noi pneumologi che il nostro organo è a diretto contatto con l'ambiente esterno per cui abbiamo la fortuna di poter somministrare il farmaco direttamente sull'organo bersaglio noi abbiamo dei farmaci che rispondono appunto al nome di broncodilatatori sono una classe, più classi di farmaci che vengono appunto inalati dal paziente quindi respirati direttamente e agiscono dilatando appunto i bronchi per quanto possibile e permettendo appunto il flusso di aria in maniera più comoda a fianco ai broncodilatatori soprattutto per i pazienti bronchitici cronici che vanno incontro a moltissime riacutizzazioni della patologia quindi a peggioramenti annuali ciclici molto frequenti abbiamo i corticosteroidi inalatori quindi il cortisone inalato che può essere dato in associazione a uno o a più broncodilatatori per migliorare appunto soprattutto la sintomatologia del paziente perché la patologia è una patologia appunto risponde stesso al nome cronica e non c'è una terapia che la guarisca del tutto ma certamente abbiamo questi farmaci che ci consentono di migliorare la qualità della vita del paziente ridurre la dispnea e aumentare diciamo l'attività quotidiana del paziente per invece, questo come diciamo terapia di base poi per le fasi di riacutizzazione quindi in cui il paziente peggiora ci riferisce che aumenta la dispnea aumenta il catarro, aumenta la tosse è utile somministrare antibiotici ovviamente in caso di sovrainfezione e corticosteroidi per via sistemica quindi iniettivi o per compresse di cortisonici però riservandola solo ai periodi di riacutizzazione più grave ecco, ci sono fattori ambientali che possono portare a una riacutizzazione? allora diciamo che le riacutizzazioni in genere sono scatenate da infezioni di tipo virale quindi i pazienti ci riferiscono per esempio che quando hanno l'influenza l'influenza non ha un decorso normale come tutti i pazienti ma spesso è accompagnata da infezioni respiratorie importanti per quanto riguarda gli altri fattori ambientali invece in genere contribuiscono più all'insorgenza della patologia cronica mi riferisco al fumo oppure per esempio ad inalazioni di tipo lavorativo esposizioni lavorative in ambienti particolari in ambienti che usano magari prodotti chimici esattamente oppure anche per esempio noi abbiamo pazienti soprattutto fra vigili urbani che lavorano in centri città particolarmente inquinati anche in quel caso per esempio ci sia un aumento di incidenza di questo tipo di patologie respiratorie croniche non ultimo poi alcuni pazienti che da giovani sono asmatici e magari curano l'asma in maniera meno accurata e poi sviluppano una cronicizzazione diciamo dell'asma una sovrapposizione fra questi due tipi di patologie e iniziano ad assomigliare più a pazienti offetti da bronchite cronica piuttosto che ai classici asmatici che riscontriamo in genere nei soggetti più giovani quindi quelli presi in tempo diciamo esattamente curati bene in tempo sì la stessa cosa l'asma è la stessa cosa insomma è sempre una patologia che va controllata non va curata del tutto perché è una patologia anche quella cronica però ha certamente un margine di recupero sicuramente molto superiore rispetto alla bronchite cronica ostruttiva la BPCO di cui ciò cura allora un'altra patologia che invece fa parte di questo rapporto tra cuore e problemi respiratori è l'apnea notturna che cos'è? allora l'apnea notturna è una patologia che negli ultimi anni sta riscontrando un aumento di incidenza non tanto perché aumentano i casi quanto perché aumentano le diagnosi i pazienti sono sensibilizzati a scoprire questo tipo di patologia che è una patologia storica chiaramente è una patologia legata molto per esempio all'obesità è legata ad altri disturbi ma certamente nell'ultimo periodo si è scoperto che chi è affetto da questa patologia ha un'incidenza molto maggiore rispetto alla popolazione generale per esempio di patologia appunto cardiovascolare cronica soprattutto aritmie e cardiopatia ischemica ma anche patologie di altro genere internistico una fra tutte il diabete ma anche disturbi anche l'ipertensione assolutamente sì ma anche disturbi di tipo neurologico perché chiaramente questi sono pazienti che durante la notte mantengono un livello di sonno non profondo ma superficiale riposano male e quindi possono avere disturbi anche comportamentali di relazione quotidiana al lavoro le faccio un esempio per esempio in alcuni paesi è obbligatorio il test di cui poi magari parleremo dopo per la diagnosi di questa patologia per esempio nei camionisti perché ovviamente sono pazienti che possono tendere durante l'esercizio della loro funzione ad addormentarsi improvvisamente e questo genererebbe disastri fondamentalmente Ecco, il paziente che ha l'apnea notturna ne è consapevole oppure no? Il paziente che ha l'apnea notturna non si accorge dell'apnea perché sono pazienti che difficilmente si svegliano del tutto in maniera diciamo completa ma si accorgono appunto di avere una maggior faticabilità diurna una sensazione come di non aver riposato durante la notte di sonno incompleto e in genere sono i partner ad accorgersi di questo disturbo perché il paziente oltre ad avere un forte russamento che è un campanello d'allarme ma non vuol dire OSAS il russamento oltre ad accorgersi appunto del russamento si accorgono proprio di pause respiratorie e della durata anche di alcuni secondi in alcuni casi che sono molto diciamo impressionanti per il partner ma che in genere non sono il problema principale mi spiego il paziente di apnea non muore non perché noi abbiamo dei meccanismi che ci consentono appunto un risveglio anche parziale un ripristino di respiro normale ma a lungo andare questo tipo di patologia causa appunto livelli di ossigeno nel sangue molto bassi e quindi l'OSAS è assimilabile alle patologie respiratorie di tipo cronico nel causare appunto patologie di tipo aritmico ischemico ecco quando è che questa apnea dovrebbe cominciare a preoccupare a tal punto da poi da andare dal cardiologo per vedere un po' per indagare diciamo che l'apnea quanto deve essere frequente? allora diciamo che noi abbiamo dal punto di vista clinico non abbiamo un dato oggettivo oggettivabile perché chiaramente è soggettivo il paziente magari accusa meno la stanchezza durante il giorno oppure non è un fortissimo russatore oppure è solo magari non ha un partner per cui non si rende conto del suo stato di partenza in genere quello che parte che fa scattare appunto il tutto è o appunto una situazione di già avanzata di interessamento respiratorio e cardiovascolare faccio un esempio i pazienti che vanno a fare un'indagine alter per un'aritmia scoprono che queste aritmie sono molto più frequenti di notte che di giorno oppure il paziente che ha una sensazione di secchezza della bocca perché russa moltissimo oppure ancora il paziente che durante il giorno appunto tende ad addormentarsi al di fuori diciamo degli orari canonici come potrebbero essere quelli dopo pranzo o la sera esistono proprio dei test che noi sottoponiamo noi pneumologi sottoponiamo a questi pazienti e questi test danno dei punteggi che chiaramente più elevati sono e maggiore è la possibilità che questi pazienti soffrano di osas ecco e questo test in effetti aiuta a fare la diagnosi questo test aiuta a screenare cioè a selezionare quei pazienti che potrebbero essere a più maggior rischio di apne notturne rispetto ad altri l'unico test che è in grado di poi diagnosticare l'OSAS è la polisonografia che voi fate alla Montevergine che noi alla Montevergine facciamo nel reparto di cardiopneumologia ed è un esame estremamente anche questo semplice non invasivo in cui il paziente viene monitorato per il periodo dedicato al sonno quindi notturno viene monitorato dal punto di vista cardiaco quindi con un alter ECG e dal punto di vista respiratorio quindi viene monitorato il flusso nasale la saturazione dell'ossigeno mediante un semplice pinzetta diciamo sul dito e le escursioni toraciche e addominali con delle fasce elastiche quindi il paziente ha il minimo fastidio diciamo possibile però questa indagine ci dà moltissime informazioni sul paziente e ci dice se e quanto il paziente vada in apnea in base poi alla quantità di apnea che il paziente appunto ha durante la notte esistono proprio dei limiti inferiori e superiori da considerare per la diagnosi poi si procede al tipo di trattamento che nei casi più lievi è un trattamento di tipo noi diciamo igienico cioè delle abitudini di cambiamento delle abitudini del paziente quindi diciamo al paziente per esempio di perdere peso di cercare di non mangiare la sera troppo tardi prima di andare a letto perché è una cena pesante può essere assolutamente sì oppure diciamo al paziente di non addormentarsi con la televisione accesa perché possono tutte queste cose possono disturbare quello che è il fisiologico andamento del sonno in altri casi laddove i casi sono più gravi noi prescriviamo la terapia che è una terapia diciamo ventilatoria quindi sono degli apparecchietti che vengono messi sul comodino e vengono collegati al naso o al naso bocca del paziente mediante delle maschere in silicone che insufflando aria a pressione positiva debole ovviamente non traumatica per il paziente non consente alle vie aeree di chiudersi di collassare e quindi permette al paziente di respirare in maniera più adeguata esistono altri diciamo altri tipi di trattamento del paziente tuttavia quello più efficace quello risolutivo al 100% è la ventilazione ecco dottore la ringrazio quindi in chiusura persone che hanno questi problemi che possono sembrare poi un po' di affanno un po' di problemi di apnea notturna che possono sembrare diciamo problemi così lievi in effetti un controllo dal cardiologo anche dovrebbero farlo certo allora certamente loro il controllo dal cardiologo è fondamentale o anche ovviamente dal specialista pneumologo che può indagare dal lato respiratorio in partenza e in genere poi sia il cardiologo sia soprattutto lo pneumologo indirizzano all'esecuzione della polisonografia che è poi il punto di partenza per la diagnosi e il trattamento di questo disturbo respiratorio che ripeto ha un'incidenza molto elevata e soprattutto ha delle conseguenze dal punto di vista della qualità della vita e anche dell'incidenza di patologie croniche molto importante sui pazienti sicuramente dormire bene è importante certamente dottore io la ringrazio è stato un piacere averla qui ringrazio anche tutti voi per averci seguito arrivederci a presto